Buongiorno, sono Massimiliano Carlesi di LG Italia, responsabile della divisione B2B. Ci troviamo all'ISE ad Amsterdam, nel nostro padiglione, dove presentiamo dei nuovi prodotti, nuove soluzioni. Qua di fianco a me vediamo il nuovo display da 55 pollici Super Narrow Bezel, che è adatto a creare video wall scenici di impatto, con altissima qualità dell'immagine e della luminosità. Il pannello è un LED, full LED retroilluminato blu, da 800 candele e 55 pollici, con una dimensione della cornice B2B di 5.3 mm. In quest'altra sezione troviamo una nuova soluzione che integra la possibilità della gestione del display dei contenuti senza la necessità di utilizzare un media player esterno. E quindi è possibile attraverso un'applicazione sul PC e semplicemente la connessione di rete, quindi il monitor è collegato alla rete IP, controllare il monitor, configurarlo da remoto e anche portare dei contenuti di digital signage sul monitor senza la necessità di un media player. Tra le novità che abbiamo c'è anche un display trasparente, due display trasparenti, adatti soprattutto per applicazioni in ambito retail. Il primo è un pannello da 47 pollici, trasparente, quindi l'illuminazione deve essere presa dall'ambiente interno, quindi diciamo retro dietro al display. Si manda il segnale al monitor e viene mostrato il contenuto. È un pannello open frame, quindi da integrazione. E da questa parte abbiamo sempre un pannello trasparente da 26 pollici touch, sempre per applicazioni in ambito retail. Segnalo la tecnologia LG IPS in plain switch che è applicata ai display e fornisce tutta una serie di vantaggi legati alla luminosità, alla qualità di visione, anche ad angoli di visione elevati, al trattamento anti-blackening, quindi in situazioni di calore elevato del monitor, ad esempio in vetrina con applicazione semi-outdoor, e il trattamento shine-out trasflettivo che consente di sfruttare la luce che il monitor riceve per aumentare la propria luminosità ed evitare riflessi fastidiosi sul display. Ci troviamo nella sezione hospitality, quindi le soluzioni per gli hotel, navi da crociera, ospedali. Presentiamo la linea di TV Procentric, dove è possibile portare sul televisore le informazioni relative ai servizi dell'hotel. Quindi il guest della camera è in grado di navigare all'interno di un portale dove l'albergatore, il proprietario dell'hotel o la catena possono posizionare dei contenuti legati ai servizi che vengono forniti ai guest in hotel, quindi il ristorante, il bar, la sauna, wellness, il business center. Queste soluzioni si integrano con l'impianto d'antenna o con un impianto esterno di streaming, IPTV, video on demand e quindi consentono anche l'interattività in camera, quindi la possibilità on demand di ricevere dei servizi ed essere anche integrato all'interno, ad esempio, delle piattaforme di billing degli hotel per poter interagire completamente con tutti i sistemi dell'hotel.